Un buon annuncio. Tengo una domanda di un'incinerator. Posso non sentire che è stato il juez di parola di trattato, la correddine civile ha detto che è in situazione di incinerator. È un abitante in un parqueto di Bossa preoccupato di quanto è lago e il sacco di uso nel sito che sta attualmente. È un parqueto di Bossa se non ha pensato di cambiare il sacco in un altro sito. Grazie per la domanda. Grazie per la domanda. Grazie per la domanda. Grazie per la domanda.